Non fare questo giusto di plateano. Complimenti, complimenti. Ci hai preso tutti per il culo, eh? Giusto per fare un po' di teatro. Preferivi che ti devono ciasse a Lombardi? Ma potevi mettermi in punizione, potevi, non lo so. Preferivo una predica o qualcosa da padre normale. Mi sembrava una buona occasione per insegnare qualcosa a tutti. Ma è possibile che tu pensi a te stesso soltanto come un professore? Parla bene, eh? Perché ti dà fastidio? Ti dà fastidio che urlo? Posso urlare quanto voglio. Potresti pensare a te stesso soltanto come un padre per una volta? Eh? E la cosa era tra me e te, soltanto tra me e te. È chiaro? Allora dimmi, che cosa c'è? Niente. Io le volevo dire che non è stato il prof Dante a rubare il compito di latino. E tu che ne sai? Io lo so perché sono stata io. Veramente a me risulta che... Che c'è? Buongiorno. Buongiorno. Volevo dirle che non è stato il prof Dante a rubare il compito di latino. Sono stata io? C'è qualcun altro che deve entrare dopo di te? Allora, vai tu. Poi vai tu. E faccio vedere. Dai, bravo. Ma veramente? Dai. Preside, veramente, cioè... Che succede, ragazzi? No, niente. Cose nostre, professore. Basta, basta. Così ho capito il concetto. Siete tutti colpevoli e siccome non posso punire tutti, non punirò nessuno. Preside, però il professore invece... Eh, professore, nessun provvedimento, no? Perché se i colpevoli siete voi è chiaro che lui è innocente. E dai! Adesso, tornate tutti in classe prima che cambi idea, eh? Sì, sì, sì. Dai, grazie, grazie. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Cinque. Tu non c'entri mai niente, eh? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Io non t'ho difeso. Mi immaginavo. Mi sembrava giusto dirtelo.